Gentili telespettatori protagonisti in occasione dello spin-off di Made in Sud qui nella sitcom Fatti Unici abbiamo incontrato il studio 58, i Sud in questo caso Ciao e benvenuti per i ragazzi Ciao a tutti ragazzi, siamo qui alla festa di Fatti Unici Ciao, una grande vittoria, una grande vittoria, Fatti Unici Siamo una grande famiglia e quindi noi festeggiamo tutti insieme Dietro al vostro sorriso, alla vostra radiosità d'immagine si vince subito Un Made in Naples che oggi va tanto in vigore e in auge dopo Made in Sud Come dirò la comocità nazionale si chiama Napoli, no? Come diceva tra l'altro il grande Totò è bello essere parte napoletani e parte nopei In questo parte nopei abbiamo visto che questa forno devi portare il teatro in tv è riuscita abbastanza Bellissimo, sì, c'è una signora della trasmissione, la padrona di casa che è Maria Bolignano Che è stata favolosa con il nostro Paolo Cagliazzo, Ciro Ceruti e poi Floriana De Martino E poi tutti gli ospiti di Made in Sud E tutti si guardano i manovie! Un Alessandro Polite in forma Che hanno reso tutto una sitcom meravigliosa e si è fatta guardare E ricordiamo chi ha coeso il gruppo, un pezzo di orgoglio napoletano della storia della comicità napoletana che si chiama Lello Arena Esatto, Lello è un grande personaggio, ha portato un po' la tradizione però in chiave moderna Quindi ha coeso tutto il gruppo in modo, come hai detto tu, magistrale Io penso che questa sitcom avrà vita lunga, potrà andare sempre avanti perché cambiando le situazioni Ormai il quadro è giusto, esatto, quindi può andare vita natural durante Voi che siete un gruppo canoro, quanto la musica riesce a ritmare e ad alternarsi ai tempi comici? Guarda, noi facciamo la musica in un programma che forse ha il più serrato tempo comico italiano La nostra soddisfazione è quella proprio di aver fuso la cultura del Sud alle hit internazionali Quindi credo che questo sia l'essere del Sud a una marcia in più La musica in un programma comico, fatto magari, diciamolo, un po' come lo facciamo noi Sotto la forma del mashup, dà quel quid in più, che non manca, anzi La trasmissione, i protagonisti, suonando un po' uno dei pezzi vostri, un inedio, una cover, vedete voi, no? Come li saluteresti? Lady? Il nostro must Sì, ma dedicando questo pezzo al motore del mondo, scusaci ma le donne Ed io sono in minoranza, vai! Vai, andiamo! Lady, hear me tonight Cos my feeling is just alright As we dance by the moonlight Can't you see you're my delight? Ciao, grazie! Ciao, Alessandro! Grazie, ragazzi! Ciao! Grazie! Buonissima voce! Grazie a tutti!